Numero 5. Tefal OptiGrill Plus XL è una bistecchiera di alta qualità con una potenza di 2000 Watt e una generosa superficie di cottura di 40 cm x 20 cm. Dispone di 9 programmi di cottura e le piastre sono leggermente inclinate per un drenaggio ottimale dei grassi. Tra le sue caratteristiche, spiccano la modalità scongelamento e la capacità di adattare automaticamente temperatura e tempo di cottura al tipo di carne. Ideale per cucinare alla perfezione ogni taglio di carne. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 4. La bistecchiera Roventa Inicio Grilla Just ha conquistato gli amanti della cucina con la sua potenza di 2000 Watt e tre livelli di cottura regolabili. Ideale per spazi piccoli grazie alle sue dimensioni compatte e al pratico alloggio verticale quando non è in uso. Una scelta perfetta per chi cerca performance elevate e praticità. Le piastre ondulate garantiscono una cottura uniforme, rendendo ogni pasto un'esperienza gustativa eccellente. Se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione. Numero 3. La bistecchiera Severin è un'eccellente soluzione per gli amanti del grill. Con i suoi 1800 Watt di potenza, offre piastre intercambiabili, rigate e lisce, ideali per ogni tipo di cottura. La regolazione dell'altezza in 5 posizioni e il controllo della temperatura assicurano risultati ottimali. L'assenza di un timer è l'unico punto debole. La piastra misura 27 x 24 cm e, con l'apertura a 180 gradi, si trasforma in un pratico barbecue. Un prodotto versatile e potente per ogni esigenza culinaria. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 2. Questa bistecchiera di Roventa offre una potenza di 2000 Watt e 3 livelli di temperatura, rendendola versatile per varie esigenze culinarie. Le piastre ondulate e removibili da 30 x 22 cm si puliscono facilmente in lavastoviglie. Occupa poco spazio se riposta in verticale e il prezzo è accessibile. Con modalità di cottura come barbecue, forno e toast, si rivela un'ottima scelta per chi cerca praticità e qualità ad un costo contenuto. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 1. Tefal OptiGrill Plus è una bistecchiera potente con i suoi 2000 Watt e funzioni preimpostate e manuali. L'indicatore luminoso di stato cottura offre un maggiore controllo, mentre la funzione di scongelamento aggiunge praticità. Le piastre ondulate e removibili sono facili da pulire in lavastoviglie. Tuttavia, il prezzo è un po' elevato e le piastre non si aprono a 180 gradi, limitando la superficie di cottura. Le sue dimensioni sono di 33 x 20 cm. In descrizione trovi il link di questo prodotto.